La cardiologia dell'Arnas, ospedale civico di Palermo, è la prima in Sicilia a utilizzare un nuovo strumento con una nuova tecnologia per la gestione dei disturbi del ritmo cardiaco e lo scompenso. Si tratta di una nuova generazione di defibrillatori cardiaci impiantabili prodotti da una ditta americana, più piccoli ma soprattutto in grado di trasmettere ai medici i dati sulla funzionalità cardiaca attraverso un'applicazione per smartphone. Si tratta di un dispositivo rivoluzionario in quanto si può abbinare a un'app per smartphone che permette al paziente non solo di poter essere monitorato dal centro ospedaliero che lo segue ma anche di essere direttamente coinvolto nel suo percorso di cura. Il dispositivo dell'azienda Abbott ha riservato questo nuovo dispositivo a soli 4 centri in Italia e complessivamente a soli 40 nel mondo. L'Arnas civico è il primo ad averlo messo in funzione in Sicilia e oggi abbiamo già eseguito 10 trapianti. Un nuovo sistema che si impianta come un pacemaker ha una doppia funzione. Da un lato riconosce le aritmie e interviene erogando impulsi elettrici o nei casi più gravi delle scariche elettriche. Dall'altro è in grado di risincronizzare il ritmo del cuore. Attraverso un'apposita applicazione installata sullo smartphone iOS o Android dei pazienti permette di condividere in modo sicuro le informazioni sulla funzionalità cardiaca utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth integrata. I medici possono monitorare costantemente i pazienti da remoto e identificare così gli episodi critici intervenendo in maniera tempestiva. Questo apparecchio è un salvavita che previene le aritmie potenzialmente fatali causate da un danno cardiaco, spiega il dottore Sgarito, responsabile del laboratorio di elettrofisiologia. Per il paziente è come avere un cardiologo sempre al proprio fianco, una tecnologia che segue il paziente da remoto senza bisogno che sia lui a venire in ospedale, aspetto fondamentale in questa fase di ripresa post-Covid. La vera sfida è rendere accessibili queste nuove tecnologie a tutti i pazienti, in quanto ad oggi la prestazione non è ancora stata codificata dal sistema sanitario nazionale e non è rimborsata alle strutture che la utilizzano e che per questo presentano ancora grosse difficoltà ad allocare le risorse necessarie. Nonostante ciò al momento, conclude il dottore Sgarito, riusciamo a seguire in remoto circa un migliaio di pazienti. I disturbi del ritmo cardiaco noti come aritmie ventricolari possono verificarsi quando il cuore batte troppo velocemente o in maniera caotica, non consentendo di pompare il sangue in maniera efficace, come accade in quei pazienti, con funzionalità cardiaca ridotta e scompenso cardiaco. Lo scompenso cardiaco, una vera epidemia del terzo millennio e seconda causa di morte in Italia, colpisce oltre 15 milioni di persone in Europa, un milione in Italia e oltre 70 mila nell'isola.